Musica Attimi di paura a Olmo, alle porte di Arezzo, una 58enne Giuliana Innocenti è stata aggredita da due ladri all'interno della sua abitazione. L'aggressione è avvenuta sabato pomeriggio attorno alle 18, quando due uomini sono entrati nella casa della donna. Sono passati dal piano terra, dal finestrone, io pensavo che fosse il mio compagno che stava entrando, perché con un cacciavite hanno aperto la porta. Ho aspettato un attimo e non ho sentito niente, quindi ho acceso la luce, ero sopra il letto, ho appena fatto la doccia. È stato una frazione di secondi, ho sentito salire le scale, mi sono sentita puntare la luce negli occhi perché in camera avevo luce spinta. Ho chiuso la porta di camera, ho aperto la finestra, ho cominciato a berciare, nel frattempo mi sono vestita perché appunto avevo fatto la doccia. Loro mi hanno sfondato la porta, mi hanno preso per il collo e poi l'altro, io ho messo a difesa in qualche modo, non lo so come, l'altro l'ha stato nato via. E mentre uno dei due ladri, entrambi a volto scoperto ma al buio immobilizzava la donna, il complice rovistava nella camera a fianco. Infine due banditi si sono dati alla fuga a mani vuote. Non c'è stato il tempo perché poi nel frattempo io ho telefonato alla figlia che era qui al bar e poi gli altri che erano nella strada mi hanno sentito berciare vicini di casa. Quindi sono venuti fuori, hanno telefonato loro 113.